ragazzi chiara ferragni chiara ferragni ha lanciato la moto delle ciabatte ha lanciato un paio di ciabatte costano 200 euro minchia 200 euro un paio di ciabatte perché c'ha l'oro queste ciabatte gli puzzerà pure il piede tra l'altro quindi non sa quanto poco sta ma questa qui ogni cosa che fa costa è tutto costoso a sto punto secondo me se le dai fa un peto di merda e lo prende e lo vende all'asta secondo me il peto di merda vale 1000 euro perché l'ha fatto chiara ferragni ma ci rendiamo conto che c'è gente che può mangiare veramente arriva a fine mese questa qui è una cazzata che è anche una scoreggia che fa l'aria con la sua puzza di merda costa 100 euro ma ci rendiamo conto ragazzi veramente un paio di ciabatte 200 euro ma chi si ricompra ma chi è un coglione che dico ma è vero quello dei soldi forse qualcuno con i soldi le spizze si ricompra sai perché io ho 6 soldi in più o li compro se ciabatte ma ciabatte sono 10 euro sono 200 euro che cazzo cambiano alla fine solo perché chiara ferragni capito a chi era ferragni ma ti la pianta del culo va